Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenzuola e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Possibili disagi invece a causa di un incidente sulla 1 panoramica tra Aglio e Barberino di Mugello sempre in direzione Roma. In direzione Bologna invece per il restringimento di carreggiata a causa lavori tra Firenze Sud e Firenze Scandici possibili disagi. Passiamo sulla 12 dove a causa di lavori si segnalano code traversili e il raccordo Lucca-Viareggio in direzione Livorno. Postiamoci sulla FIPILI dove sempre a causa di lavori si registrano due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze e possibili rallentamenti in direzione Livorno. E per il momento è tutto, muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!